30 anni sono passati così velocemente più tempo passa e più questo negozio diventa più mio più autentico se tu hai dei collaboratori motivati se tu hai dei collaboratori che si prendono cura di se stessi tutto diventa più facile c'è tantissima gente più di quella che pensavo che è molto attenta a quello che utilizza per i capelli per il corpo la cosa che ti rende più orgoglioso in questo lavoro è la soddisfazione dei clienti